3 shot, 3 hit, insano Che ci facciamo? Una solo mentre aspettiamo? Andiamo a flexare un po' di solo boys Andiamo a fare in merda e aspettarlo? Il tizio deve salire sopra, ma io ce l'ho, voglio giocare con calma, in verità sarei già andato gioco, avrei lutato e sarei disattato di te roba tagli Un lucky Grazie No merda, è sopra la casa Si è zempato e lo avvia, eh regà, mi sapevo, può capitare Regà, questo è un laser, questa MP5 Tutto bello, eh Però magari una piastra Cos'è questo nuovo bug che se mi sdraio... Ok, ora la posso girare, non mi facciamo avere la visuale mentre slideavo Pensavo che era un nuovo bug Sei stanco? No, ma ho un dolore fortissimo alla schiena Sono veramente forte, regà Infatti non sono al top della mia forma oggi Non sono nella forma perfetta Con quale arma è abbinata l'MP7? Attualmente non sto utilizzando l'MP7 Ma utilizzo sempre, se posso, l'MP5 Perché ha un danno più elevato L'MP7 è un'arma che è un po' un tuttofare, no? Ci fa di tutto con quell'arma È andato Ma? Vai là, Stellone, come stai? Infatti andò da questo, lo vedo Mentre aspettavo Pocami quando ci sei Quando è finito, dimmelo Intanto ho quasi finito, Delvan 3 shot, 3 hit Insano Questo è per voi, chat Questo è per voi Paccato che non lo uso spesso il cecchino Merda Perché gli shot semplici li messo sempre io? I shot semplici li messo sempre, raga Quelli difficili invece sono tipo una cazzata Almeno per me Ok, credo che prenda il cecchino questo game Sto venendo on fire Bersaglio taglia, contrassegnato Uccidetelo Sto venendo on fire si fa malissimo eh non lo so anzi gli shot facili li sbaglio sempre con quel cecchino ma sempre quelli difficili li prendo tutti ma sempre con quel cecchino di merda ti giuro non so perché ho quel problema ma quella è una persona ah si si non so quanti non sono pronti gas in arrivo guarda a me l'unica cosa che non mi piace delle solo è che la gente campera gli shot ma pure a quadro certe volte non si crede dai è poverino questo quindi il lombone non si sa non lo so non si sente bene la stella del cielo gas in avvicinamento non lo so sono troppi geni di string non era abituale che cazzo è la porta qui vabbè vabbè io miro precisamente la testa di dove dovrebbe essere il tipo dentro la macchina e non l'ho hitto non mi pare una cosa normale questa è solo comunque per via dello skill base ma ci pare che sono diventato una merda lo dovrebbero togliere per far divertire un po' tutti in più ma dai ma hai staccato il paracatore quando ti ho sparato ma che è sta puttanata ma ma siamo seri a volte fa dei movimenti veramente strani quando gioco oh ma troppo lontano c'è uno camperato sopra un tetto sdraiato ma non mi sto guardando in arrivo spostamento della zona sicura attenzione UAV rientro forzato per fare il rifornimento procedere qui strike a 3 ricevuto attacco in corso colpi fuori bersaglio audio 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 bene inviate subito un mezzo da ricognizione qui strike a 3 0 confermate fattugliamento UAV iniziato come ho fatto a morire là UAV nemico in volo attenzione UAV rientro schieramento finale in preparazione concludi lo scontro non ho ben capito come sono morto ti devo dire la verità poco fa non ero altissimo scusami infatti ora non sono morto vai in questo momento avrei voluto avere un grau non si no me lo dai col cecchino sto a fare roba paurosa sto a fare roba ah 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 1v1 roll ultima kill pure col cecchino non male solo 15 kill però ahhh bug mi mancano i tempi che ne facevo più di 20 in solo che bello che bella quella mi manca mi manca un botto solo incentivo qui là io si io boys good gg's gg ba gg gg nessuno che flammava tutti tranquilloni solo su tutti tranquilloni credo a parte gli stream sniper no 15 kill sono poche ragazzi per me in solo specialmente perché avete visto che per un momento sono andato a cercare i player come un pazzo e non li trovavo raga fidatevi solo incentivo era un motivo serio il problema dei battle royale di adesso è che per cercare di rendere il gioco più competitivo possibile rendono il gioco nelle solo una merda ok è l'unico motivo per cui era figo giocare in solo a warzone perché c'era solo incentivo tu potevi rispondere una marea di volte a stecca il gioco Tocco è l'unico motivo t'incazione